Ben trovati anche per la pagina delle notizie che arrivano dalle altre province toscane qua al nostro TG Noi. Un bimbo di 6 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere andato in arresto cardiocircolatorio nel pomeriggio di ieri. Il piccolo di origine indiana, ma residente a Pisa, si trovava con i genitori in un parco divertimenti di San Giuliano Terme. È stato trovato a bordo piscina privo di sensi. Immediato l'allarme al 118, condizioni che sono apparse subito gravissime, tanto che è stato usato un defibrillatore in dotazione alla struttura. Il piccolo è stato trasportato all'ospedale di Cisanello, dove è stato intubato poi nella notte con l'aggravarsi delle sue condizioni sanitari. Hanno disposto il trasferimento in elisoccorso al mayor di Firenze. Il piccolo purtroppo è in coma. La denuncia del sindacato nursing degli infermieri dal sindacalista Gianni Piccini, che lamenta difficoltà alla struttura di emergenza urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli. Questa mattina, denunciano al nursing, al pronto soccorso stazionavano 80 persone fra quelle visitate in attesa di controllo e in attesa che si liberi un posto nei reparti. 19 letti già virtualmente occupati, con le dimissioni che verranno effettuate solo entro questa sera. Ci sono pazienti che da oltre 30 ore stanno sulla barella del pronto soccorso per marcanza di posti letto. Già nel weekend prosegue Gianni Piccini. A questo si aggiunge inoltre che da 24 ore l'area Covid del San Giuseppe è satura. Dal sindacato degli infermieri chiedono di mettere in atto tutte le possibilità, tutti i metodi per tamponare questa situazione. Un viaggio doloroso, ma sempre caratterizzato dalla speranza e dall'amore per la vita. Questa la lezione che Carolina Marconi, attrice e showgirl, consegna ai lettori con il suo libro Sempre con il sorriso, la storia della mia battaglia più difficile, edito da PM. La sfida è quella contro la malattia, durante la quale è stata sempre accompagnata dalla famiglia. Il volume è stato presentato a Firenze, a Palazzo del Pegaso, il servizio. Innanzitutto per me è un onore essere qui e grazie per darmi sempre la possibilità di parlare della mia storia, della mia battaglia più difficile. Sempre col sorriso è un inno alla vita, parla di speranza e di come ho affrontato sempre col sorriso questa situazione. Io non dico che sono malata, ma è una situazione da risolvere, perché già la parola ti rende meno pesante. È un libro che parla anche del tempo, che uno pensa di essere eterno, ma non siamo eterni, perché se dovete fare qualcosa fatela subito. È quello che dice il libro. Quindi non rimandate l'amore mai. Questo parla del libro, non solo di tumore. La felicità per me in questo momento è essere sopravvissuta al tumore. Per me la felicità è apprezzare tutto in questo momento, non perdere tempo. Per me la felicità sono i piccoli attimi che sto trascorrendo con la mia famiglia, le persone che mi vogliono bene. Sono le grandi risate che faccio con i miei nipotini. Per me, o magari quando cucino qualcosa di buono per la mia famiglia, la felicità è quando mi commuovo e adesso mi faccio questa domanda e mi è commosso. L'isola di Giannutri, in provincia di Grosseto, è sempre più sotto assedio. Grossi motoscafi ancorati illegalmente sotto costa danneggiano biocenosi preziose. La denuncia di Lega Ambiente Arcipelago Toscano, che in una nota afferma, siamo in piena stagione, come ogni anno il mare di Giannutri viene preso d'assalto da centinaia di motoscafi, anche se l'ordinanza della Capitaneria di Porto Santo Stefano vieterebbe l'ancoraggio nel Golfo dello Spalmatoia, a una distanza minore di 100 metri. In realtà è prassi avvicinarsi di poppa, pochi metri dalla costa, per buttare una seconda ancora sul fondale di 1-2 metri, oppure legare una cima a una roccia emersa. È successo e documentato per l'ennesima volta da Lega Ambiente il 16 luglio, ma in realtà è quello che succede anche sull'isola dei Gabbiani ormai da decenni. Impossibile nuotare con la maschera, scrive Lega Ambiente, senza il rischio di essere colpito da una imbarcazione. E chiudiamo con un intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Firenze, il distaccamento di Castelfiorentino, che hanno operato a Certaldo, a Marcialla, in via Tavolese, per il soccorso a una persona coinvolta a seguito del crollo del solaio dell'abitazione nella quale viveva cadendo fino nella cantina. L'edificio è in fase di ristrutturazione. La squadra, giunto sul posto, ha soccorso la donna congiuntamente al personale sanitario. Bene, è davvero tutto. Grazie per averci seguito con le notizie dalle altre province della Toscana e vi lasciamo alle altre edizioni del TG Noi.